questa è la multi ragazzi chiamiamo questa Yelan chiamiamo questa Yelan a casa doppia o anche se non dovesse esserci doppia se ci sono due 5 stelle comunque non ci dispiace vediamo anche con un Bennett va bene 75 76 ok la scommessa potete già rendere come no 77 78 oh dov'è 79 comunque abbonato o all'inette come pochi io voglio vedere se a me piace io vorrei queste pull io avrò tutte barbare lo so già 81 dove è 81 82 ci sei fatta a fini molti eccolo siamo a Petit 32 così andiamo a 42 oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio hai vinto anche oh mio dio oh mio dio ragazzi a Petit 33 ok così la crani cioè non ci siamo nemmeno preparate psicologicamente non dovete non dovete con 50 e 50 quindi siamo a 75 ok adesso si va a pregare chiamate le linee siamo lì siamo lì ragazzi siamo lì chiamate le linee ok anche voi su tiktok chiamate le linee io non guardo ok 76 però ti ha portato fortuna a guardare 77 con Kafka a guardare tu hai ragione qua no no 70 no dai sì appena se è trovato rispiamo c'è Elisa ok allora va bene Claudia è la mutti del 5 stelle te la senti? più o meno non ho un arco ma se lo avessi lo avrei qua vicino ok dichiarazione pubblica ci siamo può essere anche la prima perché non sappiamo il più preciso ok Natsu grazie per il follow su tiktok ok mi sta per venire un collosso oh cazzo oh mio dio che cosa brutta cioè a me manca in realtà però ma poi un arco ma poi un arco quindi pure presa in giro oppure l'ipad si ribella però magari c'è un altro magari c'è un altro sì è sacco mamma mia sta qui cioè due mi andavano bene mi è uscita l'unica che non mi andava bene oh 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 ragazzi sono una ragazzi sono una stronza te lo posso dire ma te questo cazzo di banner ebbi le bovi sempre doppi i tuoi sempre doppi guarda in questo cazzo di banner ebbi ma io ti spacco di botto cioè è morta gladia ok ok è la musica di demon zero c'è quando qualcuno fa la sub quindi è per quello che non la sentite ok 75 76 dai amo tanto qua no amo vabbè vabbè te stessa grazie 78 79 sì trova Cita trova Cita sì vai vai ora esce in questo vai no ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo 85 66 no ho perso il conto no no sta cosa ma chi è te o la Federica che questa ce l'avete 85 volte l'avete trovata l'avete trovata l'altro giorno nel bambino stava dentro ecco eri te sei te non la Federica tu sei te signori al 5 stelle let's go eccoci qua eccoci qua 75 76 bennett c3 78 78 70 ok un'arma eccolo qua eccolo qua ragazzi abbiamo una multi da fare qua prendete pure la scommessa se non avete resa mi sembra di sì siamo a PT2 può succedere l'impossibile prendete solo quelle beh perfetto può succedere l'impossibile in una multi si prova si prova ragazzi si prova mai dire mai aiuto 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 no raga no adesso responsibility this is fuck aiuto capiti 3 aiuto ettore qualsiasi cosa esce mi vuoi bene lo stesso vero e comunque a PT entro il 13 mi vuoi bene lo stesso qualsiasi cosa esca vero 5 che ansia che è 6 7 basta stiarchi un'angoscia 8 9 10 dov'è 11 sì l'ho trovata è 11 l'ho trovata questo è 68 io non ho molti ma Ettore Ettore qui esce il 5 stelle 505 qui esce il 5 stelle raga c'è qualche 5 stelle in particolare che vorresti di quelli o armi vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che ti piace andre grazie per il follow su tiktok o mona o un'arma decente ok let's go 3 singole non so che PT siamo e poi molti siamo a PT oltre il 68 non è specificato quale a me manco piace jean e ce l'hai Gianluca ok questo è 69 teoricamente 76 il PT si è cancellato quindi potrebbe essere qualsiasi in realtà grazie per i follow su instagram raga grazie mille a tutti grazie 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 ok gioco stiamo giocando a genshin impact nicolas vediamo cosa esce 5 stelle anche qua mona voleva mona ha detto voglio mona un'arma decente e gli ho trovato mona raga che vi devo dire le magie ha detto voglio mona o un'arma decente eccotela ecco ti mona volevi mona ecco mona si va 51 early stella ci siamo early 51 entro a 51 oh mio dio aiuto 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 stella aiuto non guarda no non guarda no questa cosa è non guardare allora siamo a 42 siamo a 42 43 44 it's it 45 46 questo mostro questo mostro tu manco la volevi sta mostra gin monotighi sta mostra oh per i grazie per il fallo welcome lo vogliamo doppio ce lo meritiamo doppio allora 77 ci sei barbara ci sei barbara ce l'abbiamo ce l'abbiamo barbara ci sei barbara è diventata ufficialmente una resser barbara ressa quindi 77 78 79 80 ce l'abbiamo pt80 il circense è arrivato sempre in fondo maledetto sto gatto sto gatto ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo e poi vediamo se per casa c'è anche una linette un bennette però un bennette non mi ricordo è una beidu ma che sta succedendo ma che cos'era questa multi cos'è appena successo guardate quanta gente guardate quanta gente che cos'era cioè che cos'era che cos'era che cos'era è sempre che cos'era è un bennett